L'importante confronto ad Assosementi oggi qui a Roma per discutere e confrontarci sulle centralità della filiera. Ho ribadito l'importanza che il Governo conferisce alle filiere agroalimentari di qualità e ovviamente prima di pensare a qualsiasi tipo di politica bisogna pensare all'origine di queste filiere. Le origini di queste filiere non possono che partire dal seme, non possono che partire dalla tracciabilità e dalla rintracciabilità del nostro seme che garantisce qualità, che garantisce rispetto della biodiversità che in Italia è la più importante del mondo e che ovviamente diventa protagonista insieme alle impostazioni che noi stiamo dando sulla programmazione negoziata. Quindi più fondi per i contratti di filiera, più sviluppo per i contratti del cibo e contratti di distretto, più politiche attive per accorciare le filiere perché accorciando le filiere si ha la possibilità di redistribuire in maniera più equilibrata e perequativa la ricchezza e il profitto.